Il progetto completo di questa zona prevedeva e ancora in parte prevede il salpamento, così si chiama, cioè lo spostamento delle scogliere anticamente esistenti che sono a ridosso della ferrovia, non attaccate ma molto vicino alla ferrovia, quindi consentono di avere solo delle piccole spiagge a disposizione e di spostarle più a largo ed allinearle con quelle che sono nella zona di torrette già realizzate. Quindi da qui alla foce del metauro dove ci troviamo fino a torrette dovrà esserci un'unica linea di nuove scogliere, quindi saranno quelle più a riva spostate più a largo. Questo intervento che era previsto sugli 8 milioni di euro finanziati con i PORFES, quindi fondi europei attraverso la regione Marche, ha avuto attuazione come primo stralcio, i primi 4 milioni messi a disposizione, che sono 2 milioni della regione Marche e 2 milioni delle ferrovie dello Stato perché con questo primo intervento si è emesso in sicurezza anche una parte di ferrovia che era insidiata continuamente dalle mareggiate. Di conseguenza questo primo stralcio oggi viene completato ed è già funzionale. Si rende funzionale tutto un tratto di spiaggia dove ci sono anche delle concessioni balneari, quindi ne va anche a favore del turismo, dell'accoglienza su questo territorio che sarebbe la parte di Fano Sud che spesso in passato ha lamentato delle carenze di interventi, in questo momento queste carenze vengono in buona parte colmate. Porta sviluppo, con questo intervento col tempo crescerà anche lo spazio dell'arenile, quindi con nuove occasioni di sviluppo e di opportunità per il territorio. Quindi veramente ha una duplice faccia importante. Il secondo elemento che mi piace sottolineare è quello dell'efficienza. Una volta tanto, diciamolo, qui gli interlocutori pubblici e privati, dall'azienda che ha realizzato i lavori, ma tutto il percorso anche burocratico, progettuale e amministrativo ha avuto un'efficienza straordinaria che mi piace sottolineare, proprio da dire da best practice. E quando ci sono un insieme di queste cose, questi sono i risultati. Diamo una restituzione alla collettività, al territorio di un'opera importante e soprattutto diamo anche un'opportunità di sviluppo per il futuro.